ritorno in zona gialla le marche hanno i numeri giusti scuola da lunedì si torna alle superiori al 70 per cento solidarietà sabato e il giorno del dono come lievito sport little service conquista la semifinale di coppa italia una buona serata a tutti voi telespettatori di rossini tv che come ogni sera ci seguite sul canale 633 delle digitale terrestre questa è rossini news il nostro telegiornale che questa sera apriamo concentrandoci sulla situazione sanitaria nella regione marche in vista delle imminenti riaperture infatti ad un giorno dal cambio di colori nelle regioni italiane le marche mostrano i numeri giusti per il ritorno in zona gialla l'ufficialità si avrà domani ma intanto l'ultima rilevazione consente di ostentare ottimismo con l'rt rilevato a 0,79 e un'incidenza del contagio a 137 ogni 100.000 abitanti numeri confermati anche dal dato dei ricoveri in regione oggi sono 596 con 72 pazienti in terapia intensiva un dato molto significativo ricordando che meno di un mese fa eravamo a oltre 900 ricoveri per quanto riguarda i contagi restano contenuti con 272 casi su 2098 nuove diagnosi per 3972 tamponi complessivi i casi in provincia di pesaro urbino sono 85 bene anche la campagna vaccinale secondo l'assessore regionale alla sanità filippo saltamartini le marche sono al secondo posto dietro al veneto tra le regioni italiane per dosi somministrate sul totale di quelle ricevute marche che ora sono pronte a passare da 12.000 a 15.000 somministrazioni giornaliere non appena ci sarà disponibilità dei vaccini oggi l'assessore regionale con delega la protezione civile stefano guzzi ha anche fatto visita ai punti vaccinali di fano senigallia e ancona ringraziando i tanti volontari che si stanno prodigando nella campagna vaccinale e dunque se sarà zona gialla si allenteranno le restrizioni ma indipendentemente dal cambio di colore da lunedì ci sarà un allargamento della didattica in presenza alle scuole superiori vediamo il servizio la zona arancione aveva riaperto la didattica in presenza fino alle scuole medie ma l'aveva frenata al 50 per cento nelle scuole superiori da lunedì 26 aprile invece si cambia ora il decreto riaperture approvato mercoledì sera riporterà gli studenti degli istituti superiori delle marche al 70 per cento una percentuale che negli ultimi giorni è salita è scesa come un iper dall'ipotesi del 100 per cento con l'arrivo della zona gialla ad un più morbido 60 per cento 60 per cento che era la soluzione più graduale e più gradita alle istituzioni regionali istituzioni che invece ora devono adeguare la macchina organizzativa al 70 per cento rispetto alle precedenti previsioni l'orientamento è per avviare questa ripresa con un 60 per cento per due ragioni uno per prudenza considerato che stiamo migliorando ci dice l'asur della regione stiamo migliorando ma comunque la necessità di un minimo di prudenza è consigliato dagli esperti dalla sanità e in più per consentire al servizio di trasporti di riuscire a portare contestualmente questa percentuale che laddove fosse necessario invece incrementarla in questo momento comporterebbe questo incremento la necessità di una di doppi turni che dal punto di vista organizzativo sono particolarmente difficili da realizzare sicuramente ci sarà un'apertura graduale un'apertura graduale proprio per contemperare le necessità ovviamente di organizzative che il trasporto pubblico ad oggi ancora noi siamo pronti a ripartire le scuole sono pronte a ripartire ecco la riapertura sarà graduale mano a mano che il trasporto pubblico ovviamente si organizzerà di conseguenza è ovvio che comunque l'obiettivo è quello di ampliare sempre di più la percentuale noi abbiamo l'obiettivo di far ritornare in breve tempo tutti i ragazzi in presenza al cento per cento perché questo è l'obiettivo insomma che abbiamo avuto sempre è ovvio che dopo ci sono anche delle criticità organizzative e sappiamo che il settore dei trasporti è il settore quello più problematico ci occupiamo ora di una operazione della guardia di finanza di pesaro ancora una volta attenta a smascherare chi percepisce indebitamente redditi di cittadinanza questa volta ad essere smascherata e denunciata è stata una 48enne di monte labate che aveva ottenuto 3.000 euro di reddito di cittadinanza ma nella dichiarazione sostitutiva unica aveva comunicato in modo non veritiero di pagare un canone di locazione di 7.200 euro annui per il contratto di un immobile a pesaro che nella realtà dei fatti era già stato risolto ieri ci siamo occupati dell'ex complesso psichiatrico san benedetto di pesaro che è stato inserito nella programmazione del piano triennale della cultura della regione marche un altro progetto che sarà valorizzato da questo piano è terre martiniane un'ambiziosa rete nazionale che ha come capofila il comune di mondolfo un progetto ambizioso che coinvolge tanti tanti comuni quindi siamo orgogliosi che stanno aderendo a questa rete tanti comuni marchigiani ma anche comuni che vengono da fuori regione dalla calabria dalla toscana dall'emilia romagna dall'umbria e quindi un progetto culturale che vuole valorizzare i nostri territori attraverso la figura di francesco di giorgio martini l'architetto senese che ha operato in molti comuni marchigiani e d'italia e siamo anche soddisfatti che nel consiglio regionale di ieri è stata votata all'unanimità un emendamento proposto dalla commissione cultura e a cui l'iter è stato seguito dal consigliere regionale baiocchi e la votazione all'unanimità ha portato il piano triennale della cultura della regione marchia ad accogliere questo importante progetto e quindi siamo soddisfatti e ringraziamo il consiglio regionale diciamo andare un po nello specifico di cosa si propone questo progetto ma intanto il progetto abbiamo firmato un protocollo di intesa tra tra tutti i comuni proprio per la promozione culturale delle opere che sono state realizzate dall'architetto francesco di giorgio martini ora il passo successivo sarà quello della realizzazione di una piattaforma abbiamo già condiviso con tutti gli altri comuni il sito internet quindi a breve verrà presentato a tutti e verrà aperto e poi da lì partiranno una serie d'iniziativa a livello nazionale e anche la ricerca di fondi e finanziamenti per portare avanti il progetto piano della cultura vuol dire valorizzazione di strutture e progetti ma anche degli stessi borghi della regione che è pronta a lanciare il festival Marche Storie dopo tante restrizioni da pandemia si torna a parlare di eventi di festival eppure di prime edizioni appartiene a questa categoria Marche Storie festival annuale dei borghi che nascerà a settembre mettendo in rete i tanti piccoli gioielli della nostra regione in una rassegna che intende imprimere una nuova cassa di risonanza di valorizzazione alle aree interne un progetto su cui la regione Marche ha investito oltre 7 milioni di euro all'interno di una nuova proposta di legge il primo atto concreto di questa legge sarà proprio un festival dei borghi che convolgerà queste realtà attraverso spettacoli, attraverso una festa che appunto metterà in evidenza le tradizioni metterà in evidenza le storie, i miti, le leggende di questi luoghi straordinari proprio per far conoscere la storia di questi luoghi sia ai marchigiani ma anche ai turisti che appunto verranno attratti da questo festival per far ritornare a vivere questi magnifici luoghi e quindi queste iniziative culturali che saranno disseminate in vari borghi che poi verranno selezionati, circa una ventina, almeno 20 diciamo, saranno tutte iniziative che sono correlate poi dopo all'identità del luogo, alla tradizione, anche alla musica popolare e quindi ecco aspettiamo insomma che questa iniziativa sia come un inizio di ritorno a vivere per questi luoghi e per la nostra regione queste realtà hanno sempre fatto delle bellissime iniziative ma magari non hanno avuto proprio la forza di comunicarle all'esterno e noi come regione vogliamo dare proprio questo supporto Dal 21 maggio si apriranno le adesioni dei comuni che vorranno partecipare a Marche Storie il festival rientrerà in una serie di azioni strategiche che andranno oltre l'aspetto turistico-culturale parallelamente si agirà per recuperare ritardi strutturali delle aree interne e arginarne lo spopolamento Creare un circuito turistico ed economico che punta al rilancio delle aree interne, dei borghi, dei centri storici e a un'economia che rischia di essere sommersa cioè sommersa che rischia di andare perduta che è l'economia degli artigiani, della filiera enogastronomica della ristorazione, della cultura, dei piccoli musei, delle pinagoteche delle tradizioni, tutta una serie di soggetti e percorsi che possono messi insieme portare la nostra regione ad essere molto competitiva e a destagionalizzare una stagione appunto che purtroppo finora è stata molto concentrata nel periodo estivo o in manifestazioni singole Le Marche sono la terza regione per numero di cittadini che cambiano stabilmente in residenza e vanno all'estero o in altre regioni quindi noi dobbiamo in qualche modo creare una politica anticiclica ecco questa è la risposta concreta è una legge che taglia trasversamente più settori perché come è necessario fare in questi casi deve essere data collettività al tema cioè ci devono essere competenze che riguardano l'agricoltura altre che riguardano il commercio alcune il turismo, altre l'artigianato e soprattutto l'informatica perché il ritardo delle infrastrutture tecnologiche in qualche modo incentiva la fuga delle aree interne verso altre località quindi dobbiamo assolutamente contrastarlo in questo modo daremo ai cittadini che vivono nei borghi la possibilità di sentirsi nel posto migliore della terra per poter vivere oggi va di moda andare nei posti dove c'è una riconoscibilità internazionale la Toscana è andata di moda l'Umbria è andata di moda per certi versi ecco le marche su queste hanno un ritardo per questo abbiamo fatto questa legge perché vogliamo mettere importanti risorse che arriveranno in questa fase dalle risorse regionali e poi da quelle del POR e credo anche da quelle del Recovery su un obiettivo che è quello di rilanciare le nostre bellissime aree interne che però sono abbandonate a se stesse la bacchetta da direttore d'orchestra donata dal comune francese di Passy a Gioacchino Rossini nella seconda metà dell'Ottocento è stata battuta all'asta a 26.000 euro dalla casa Gonnelli di Firenze il Cimelio ricordiamo veniva venduto da una base d'asta di 1.500 euro ignoto l'acquirente per un'asta avvenuta online e si è presentata oggi in comune l'attività istituzionale 2021 della Fondazione Vanda di Ferdinando un'attività in cui spiccano gli stanziamenti di ben 20.000 euro a favore del microcredito Caritas Pesaro che permetterà a persone e famiglie vulnerabili di intraprendere percorsi di autonomia economica ma anche 1.500 euro all'associazione RAD a sostegno di minori stranieri in uscita da percorsi di accoglienza e 2.000 euro all'orchestra Olimpia che aiuterà a distanza lo studio della musica rivolto a bambine orfane in Afghanistan ed ora vi mostriamo alcune immagini inviateci da telespettatori che ieri all'uscita della superstrada nella città di Fano hanno filmato l'insolita scena di tre cicogne che hanno deciso di fare base su un ripetitore posto in cima ad un lampione dell'illuminazione immagini che hanno destato curiosità fra le tante persone in transito sulla strada che hanno notato l'inaspettato passaggio dei volatili e dunque una segnalazione positiva e un'altra purtroppo molto meno ecco infatti un altro deplorevole caso di abbandono di rifiuti Le segnalazioni di voi telespettatori di Rossini TV accendono nuovamente e purtroppo dobbiamo dire le nostre telecamere su un altro caso di ingiustificato abbandono di rifiuti Oggi ci troviamo in strada del Monte Feltro a fianco ad una zona prettamente industriale dove corre un fossato a fianco alla strada e alla stessa area industriale fossato che viene indiscriminatamente utilizzato come una vera e propria discarica Rifiuti di ogni genere tantissima plastica pezzi di polistirolo legname pneumatici tantissime mascherine avanzi che mostrano tracce di bivacchi qui a due passi dai parcheggi e il tutto si ripete per decine e decine di metri lungo questo fossato che come detto corre parallelo alla strada e ai parcheggi delle aree industriali Oggi giovedì 22 aprile è tra l'altro la giornata mondiale della terra una giornata dedicata a rispetto per l'ambiente e proprio in questo contesto è quanto mai appropriato condannare con forza questi comportamenti incivili Sabato 24 aprile è il giorno del dono come lievito una giornata dedicata ad una grande raccolta di beni di prima necessità che quest'anno si allarga a ben 16 centri di donazione e a decine di associazioni coinvolte Seconda giornata del dono l'evento più grande forse mai realizzato nella nostra provincia forse regione 700 volontari 50 realtà associative coinvolte 16 punti raccolte nella nostra regione nella nostra provincia quindi il nostro invito è Sabato 24 dalle 8.30 alle 18.30 trovate i punti sui social su qualsiasi motore di ricerca donate donate perché le famiglie sono in aumento famiglie che hanno bisogno e ci serve il vostro aiuto per riuscire a soddisfare le esigenze di queste famiglie la famiglia che viene a donare può venire tranquillamente con la sua auto e tuttiamo il sistema a drive-in quindi la famiglia arriva accosta in una isoletta fatta con due tavoli lascia la sua donazione e poi i volontari dividono la donazione che ha portato speriamo che siano molte le persone a venire perché veramente abbiamo bisogno e abbiamo i magazzini quasi vuoti un momento molto difficile l'economia non riprende il covid ci ha tanaglia e le famiglie sono molto molto in aumento come consiglio regionale abbiamo voluto patrocinare questa bellissima iniziativa e lo scorso anno era stata fatta solamente nella città di Pesaro insieme a Bocca Nera ci siamo confrontati e abbiamo detto perché non allargare altri comuni del nostro territorio e quest'anno grazie a questo incontro che abbiamo fatto questa iniziativa viene fatta in 7 comuni e il nostro obiettivo è quello di riuscire poi anche nei prossimi anni ad allargare ulteriormente era necessario fare una verifica cioè capire anche dal punto di vista organizzativo se era possibile fare tutto questo e devo dire che i numeri ad oggi sono molto importanti 7 comuni coinvolti oltre 50 associazioni c'è moltissimi volontari e devo dire 15 punti in cui i cittadini si possono recare a donare io faccio un appello a tutti i cittadini perché è importante anche soprattutto per dare una mano alle persone che soprattutto in un momento come questo sono meno fortunati sono sempre di più le persone che hanno bisogno e per chi può donare o qualcosa legato al cibo o anche legato al vestiario è sicuramente un bel segnale per stare vicino appunto alle persone che sono meno fortunate e concludiamo il nostro telegiornale con una notizia di sport perché questa mattina i tifosi dell'Ital Service hanno potuto esultare in diretta TV su Rossini TV in occasione della prima partita delle Final 8 di Coppa Italia di calcio a 5 Final 8 che sono cominciate oggi a Rimini la squadra pesarese di Colini è partita col piede giusto battendo 5 a 2 la color Max Pescara con doppiette di Cuzzolino Miarelli e Gol di Borruto l'Ital Service approda così in semifinale che giocherà sempre a Rimini sabato 24 aprile contro la Todis Lido di Ostia e con lo sport si conclude questa nostra edizione del telegiornale Rossini News prima di salutarci vi ricordiamo qualche appuntamento sulla nostra emittente a cominciare dalla nostra prima serata del giovedì come sempre l'appuntamento è quello con insieme a canestro appuntamento alle 21 e 15 per gli appassionati di basket e tifosi della Carpegna Prosciutto Basket vediamo chi sono gli ospiti di questa sera ci sarà il responsabile della comunicazione VL Elio Giuliani l'ex dirigente dei Biancorossi Lucio Zanca e l'ex giocatore della Scavolini Alessandro Boni a seguire sempre questa sera come ogni giovedì ma anche ogni martedì Spazio Web il nostro spazio il nostro format musicale che si tiene appunto alle 21 e 15 uno spazio in cui vedrete musica interviste e documentari da non perdere vi ricordiamo anche un altro appuntamento quello con Casa Rossini come ogni venerdì ma anche ogni lunedì e mercoledì in diretta alle 10 di mattina il salotto di Paolo Pagnini vediamo gli ospiti di domattina ci saranno in sequenza Simone Aspriello dottore e coordinatore della giornata del dono come lievito la deputata della Repubblica Italiana Alessia Morani e il docente e scrittore Gianmarco Cecconi dunque appuntamento in diretta alle 10 e per quanto riguarda un altro appuntamento di sport da non perdere quello di sabato 24 aprile con la Coppa Italia di hockey su pista Coppa Italia con finale per quanto riguarda la categoria Serie B Pesaro sarà in finale contro Vercelli dunque appuntamento in diretta alle 15 di sabato 24 aprile ed è davvero tutto per questa nostra edizione del telegiornale Rossini News da parte mia e di tutta la redazione di Rossini TV il più cordiale saluto e una buona continuazione di serata con i nostri programmi